Nel 1898 nacque come cassa volontaria, nel 1933 diventò poi istituto nazionale di previdenza obbligatoria. Dal 43 all'attuale denominazione IMSS gestisce un bilancio che è secondo di poco solo a quello dello Stato ed è il più grande istituto di previdenza d'Europa, 20 le direzioni regionali, 117 quelle provinciali, 333 le agenzie e 325 i punti IMSS. È in sostanza l'architamento del sistema di welfare con 28 mila dipendenti che governano metà della spesa pubblica, gestiscono le istanze di 40 milioni di utenti, 20 milioni di assicurati, un milione e mezzo di imprese, 17 milioni il volume delle pensioni erogate al mese. Ma dal 1898 l'IMS è dunque cambiata radicalmente. Che cos'è oggi l'IMS che festeggia 120 anni? Noi siamo conosciuti da sempre per erogare le pensioni. In realtà quello che prima era il core business dell'istituto, cioè le pensioni, è diventato tutt'altra cosa. Oggi abbiamo la gran parte delle nostre prestazioni, sono nell'ambito della protezione sociale, quindi le cosiddette prestazioni a sostegno del reddito. Tocchiamo 40 milioni di cittadini nel paese, quindi immagino che non esista famiglia in Italia che non sia interessata almeno una prestazione l'IMS. Il direttore regionale Aereo Rivezzi insieme al vicario Fabrizio Giorgilli, al direttore provinciale Barresi e alla responsabile comunicazioni Lunella di Credico ha presentato le iniziative che andranno avanti tutto l'anno per le celebrazioni. Protagonisti le aziende con un primo appuntamento domani alla Molisana, ma anche gli studenti, in generale tutti i molisani. Sul fronte scolastico credo che faremo un'iniziativa molto originale perché coinvolgeremo dei ragazzi di due istituti superiori, ma non con il solito seminario in cui parleremo della Previdenza. Faremo lavorare loro, i ragazzi, su alcune tematiche e poi ci faremo fare delle proposte, quindi una cosa un po' originale. E invece la cosa che mi preme molto e stiamo organizzando, anche se molto velocemente perché abbiamo avuto l'ok da pochi giorni, è quello che faremo nel 1, 2, 3 giugno, in occasione del festeggiamento del Corpus Domini al Campopasso, una nostra casetta di legno, le solite casette che di solito sono occupate da amministrazioni locali, questa volta sarà anche uno spazio IMSS, in cui faremo consulenze, rilasceremo PIN, ascolteremo le persone, fisseremo appuntamenti e sto cercando di vedere se riesco a portare una presenza centrale importante, non mi posso ancora sbilanciare e quindi fare anche un momento, un dibattito forse presso l'aula del Consiglio Comunale, insieme al Sindaco naturalmente che ci ospita, per poter parlare di Previdenza.